Barriere antirumore, la voce di un amministratore di condominio, paratie alte in alcuni casi fino al terzo piano degli edifici che si trovano sulla linea ferroviaria, frontisti mobilitati per ricorrere. Secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco sono 3.200 i medicinali di cui c'è carenza in questo periodo, una situazione eccezionale, spiegano i farmacisti, ma nessuna emergenza, ci sono soluzioni alternative. Missione, ossigeno per la vita cristiana, nuovo ciclo di catechesi del Papa, Francesco ha iniziato a parlare di evangelizzazione partendo dalla chiamata di Matteo e da quello sguardo di Gesù che lo ha indotto ad alzarsi. Serata di approfondimento sul dialogo ebraico cristiano in diretta domani sera su Telepace Tele Liguria Sud, è promossa dalle diocesi della Liguria per promuovere la conoscenza e il rispetto reciproco. 40 anni di medicina e volontariato, Piero Buffa racconta la sua storia in Missione Mondo dal Gaslini al Benin con un progetto per formare giovani disabili a intraprendere attività artigianali. Buongiorno dalla redazione di Telepace, torniamo in apertura a parlare delle barriere antirumore lungo la linea ferroviaria, il cui progetto, lo sapete, potrebbe entrare a breve nel vivo per quanto riguarda la loro realizzazione a Chiavari. Il progetto in realtà in questo momento non è ancora definitivo, ma prevederebbe la realizzazione di paratie alte anche fino al terzo piano di alcuni edifici e ovviamente fra i frontisti c'è molta preoccupazione, molti di loro si stanno organizzando per poter avviare azioni legali. Vediamo. Che tipo di azioni state portando avanti? Dal punto di vista dei condomini, i singoli proprietari sono state organizzate delle raccolte firme e comunque io in qualità di amministratore ho scritto alle ferrovie, ho mandato una pecca alle ferrovie per ciascun condominio interessato, lamentando i notevoli disagi, i problemi derivanti dal depreciamento di valore degli immobili, la mancanza di luce perché queste paratie qua sarebbero particolarmente invasive. Quindi si tratta di fare un'azione legale anche vera e propria da parte dei condomini che si trovano in questa zona entro il 16? Allora entro il 16 bisogna contrastare l'esproprio che è stato tra l'altro in maniera abbastanza antipatica perché è stato fatto una pubblicazione sul giornale del 16 di dicembre, tanta gente non era a conoscenza di questo, noi stessi ce ne siamo accorti a fine anno per cui con tempi molto ristretti per poter prendere delle iniziative. So che diversi condomini si sono attivati dando mandata legale per contrastare questo esproprio, io sto facendo le valutazioni con i condomini, dei condomini che ho su questa linea ferroviaria per far sì di contrastare questo esproprio. Lei ha visto il file con i lavori che verrebbero fatti, anche se il progetto non è definitivo, effettivamente ci sono paratie di una certa altezza? Sì, le paratie sono con altezze molto elevate che addirittura fino al secondo, in alcuni casi fino al terzo piano toglierebbero luce visuale. Oltre a questo abbiamo anche il problema che per i turisti, per la gente che passa in treno, avremmo un muraglione e non avremmo più la visuale che c'era prima che caratterizza un po' il nostro territorio. E questa mattina i consiglieri di minoranza di Chiavari hanno protocollato la richiesta di convocazione di una commissione consigliare per poter avere aggiornamenti proprio sull'iter per la realizzazione di questo progetto. La richiesta è quella di poter esaminare tutta la documentazione prima della convocazione del prossimo Consiglio Comunale, ma anche quella di poter avere chiarimenti da parte dei tecnici del Comune su quelle che possono essere le soluzioni alternative per attuare il piano di risanamento acustico che è previsto dalla legge. I consiglieri di opposizione aggiungono che non c'è stata per ora chiarezza sui tempi e sulle effettive azioni di contrasto intraprese dall'amministrazione comunale. Continua ad essere complicato trovare alcuni tipi di farmaci, un problema che ha iniziato a proporsi diversi mesi fa ma che negli ultimi tempi si è acuito. AIFA pubblica costantemente gli elenchi aggiornati dei farmaci carenti e nell'ultimo che è datato 10 gennaio il loro numero arriva a 3.200. Vediamo. Non è una cosa strana che alcuni tipi di farmaci non si trovino in commercio per un certo periodo. In questo caso però la carenza riguarda un gran numero di prodotti. Nell'elenco aggiornato al 10 gennaio l'AIFA ne conta 3.200. Non si trovano soprattutto farmaci che sono molto comuni, in particolare quelli antinfiammatori, antipiretici e antibiotici. Le cause sono principalmente due, una maggiore richiesta dei prodotti nel periodo post-Covid, probabilmente anche a causa di più virus contratti con la fine dell'uso delle mascherine, e una minore offerta delle case farmaceutiche per una carenza di materiali per il confezionamento. Quello che c'è da dire alla gente è sostanzialmente di affidarsi al farmacista o al medico di base perché ci sono comunque delle alternative. Le più semplici sono gli equivalenti, se no ci sono alternative terapeutiche che si scelgono insieme al farmacista o insieme al medico. La terza opzione è quella di farsi preparare il medicinale nei casi in cui la farmacia abbia un laboratorio galenico. Chi lavora nel settore spiega che non esiste un'emergenza, ma una condizione di maggiore attenzione. L'approvvigionamento delle farmacie avviene tutti i giorni a mezzo di società di distribuzione e che a loro volta si riforniscono dalle case madri che producono. Quindi bisogna aspettare il reintegro delle scorte sostanzialmente. Non siamo in un'emergenza, certo qualcosa poi dovrà cambiare, anche perché le produzioni sono delocalizzate. La maggior parte dei principi attivi vengono fatti oggi in India, in Cina. Al momento la situazione sembra leggermente miglioramento con una richiesta minore. Per ora non ci sono stati tavoli istituzionali. Il pensiero condiviso è che ci si sia trovati di fronte a una situazione eccezionale. È un'eccezionalità perché proprio si è andati molto oltre le previsioni della domanda. Perché lei deve immaginare che i consumi di farmaci non si scostano in maniera così importante come in questi ultimi sei mesi. Questo è quello che è successo. Federico Messuti, in qualità di sindaco di Chiavari, ma anche di presidente della conferenza dei sindaci della ASL4, chiede a Regione Liguria di non accorpare la centrale del 118 dell'azienda sanitaria locale del Chiavarese con quella di Genova. La preoccupazione infatti è quella di potenzialmente poter perdere efficacia nel rispondere alle urgenze e ai bisogni della popolazione, spiega in una lettera che è stata inviata all'assessore regionale alla Sanità Angelo Grattarola, al direttore generale di ASL4 Paolo Petralia e ai sindaci. In particolare, l'attenzione è rivolta alla formazione che gli operatori forniscono ai volontari delle pubbliche assistenze, alla conoscenza della conformazione del territorio e all'aumento degli interventi che caratterizza il periodo estivo, quando appunto sul nostro territorio ci sono anche molti turisti. Il piano di ridimensionamento delle centrali del 118 in Liguria, sono due quelle che dovrebbero sparire, si adegua ad una direttiva del Ministero della Salute. Ci sono alcune variazioni per quanto riguarda gli autobus di AMT a causa della chiusura delle gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia dalle 10 alle 12.15 e dalle 13.20 alle 16.05, chiusura programmata per i giorni 11, 12 e 16 gennaio. Nel dettaglio, la corsa in partenza dalla ferrovia di Sestri Levante delle 10.40 sarà anticipata alle 10.20 e raggiungerà Moneglia passando per il Bracco. Anche la corsa in partenza da Sestri Levante alle 13.35 passerà per il Bracco e lo stesso quella delle 15.43 in partenza da Moneglia. Il Papa all'udienza generale questa mattina ha avviato un nuovo ciclo di catechesi dedicato alla passione per l'evangelizzazione. L'annuncio gioioso del Vangelo infatti è una dimensione vitale per la Chiesa a partire dal proprio ambiente senza proselitismi ma per attrazione, così, ha detto il Papa, come ha insegnato Benedetto XVI. Uno sguardo, un movimento, una meta, la dinamica della missione riassunta in una storia, la storia di Matteo, il pubblicano, l'esattore, quello che per la gente, per tutti, era un collaborazionista del potere, quello che sta seduto a riscuotere le imposte che invece, guardato da Gesù, si alza. Gli fa lasciare una posizione di supremazia per metterlo alla pari con i fratelli e aprirgli gli orizzonti del servizio. E questo è fondamentale per i cristiani. Noi discepoli di Gesù, noi Chiesa, stiamo seduti aspettando che la gente venga o sappiamo alzarci, mettersi in cammino con gli altri, cercare gli altri. È una posizione non cristiana, dire ma chi vengono, io sono qui, chi vengono, vai tu a cercarli. Dato il primo passo. Il Papa ha annunciato di voler intraprendere un percorso che, partendo dalle scritture e proseguendo con storie di testimoni, porti a riscoprire la passione evangelizzatrice. Lo ha fatto partendo da due punti. Primo, la missione non è proselitismo. Secondo, la passione per l'evangelizzazione è un tema urgente, decisivo per la vita cristiana, una dimensione vitale che a volte sembra eclissarsi. Ma quando la vita cristiana perde di vista l'orizzonte dell'evangelizzazione, si ammala e si atrofizza. Qui Francesco ha precisato che lo sguardo bellissimo di Gesù sugli altri è l'inizio della passione evangelizzatrice, uno sguardo che vede gli altri come destinatari d'amore. Gesù non si ferma negli aggettivi, Gesù sempre cerca il sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un tale per quale, sono degli aggettivi. Gesù va alla persona, al cuore, questa è una persona. Matteo diventa immediatamente testimone perché non fa cose eccezionali, non aspetta di essere perfetto, di aver compiuto un lungo cammino per seguire Cristo e raccontare di Lui. Va a casa e prepara un banchetto. Senza convincerli, no, che il Signore convinca. Come infatti ci ha insegnato Papa Benedetto, la Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per attrazione. Non dimenticare questi. Quando voi vedrete dei cristiani che fanno proselitismo, che ti fanno una lista di gente per venire, questi non sono cristiani, sono pagani travestiti dei cristiani, ma il cuore è pagano. Le diocesi Liguri propongono una serata di approfondimento dedicata al dialogo ebraico-cristiano, in vista della giornata che tradizionalmente sarà celebrata la prossima settimana. Domani sera, in diretta TV dai nostri studi di Chiavari, trasmetteremo per la prima volta in Contemporanea su Telepace e su Tele Liguria Sud un momento di incontro fra diverse personalità del mondo cristiano ed ebraico. Sarà un'occasione per ascoltare anche la voce dei vari territori della nostra regione. La sintesi nel servizio. Il cammino ecumenico si estende in Liguria. Da tempo gli uffici diocesani, da ponente a Levante, lavorano assieme per sollecitare rapporti di conoscenza, ciascun territorio con la propria peculiarità. Primo banco di prova quest'anno è il dialogo ebraico-cristiano, la cui giornata è in programma martedì prossimo, 17 gennaio. Per la prima volta le diocesi Liguri promuovono un approfondimento in diretta TV. Domani, 12 gennaio, il tema del 2023, Consolati il mio popolo, tratto da Isaia, farà da filo conduttore alla trasmissione direttamente su, in onda dalle ore 21, sia sul canale 12 di Telepace, sia sul 15 di Tele Liguria Sud. Con la co-conduzione di Don Gabriele Maria Corini di Albenga e Andrea Baudone di La Spezia, interverranno diverse personalità del mondo cattolico, ebraico, avventista e valdese. Sarà l'occasione per ascoltare i singoli territori, come quello di Savona, dove da un anno c'è Natascia De Rosso alla guida dell'Equipe. Abbiamo diverse realtà, piccole come noi, ma legate da diversi anni, da rapporti di amicizia e di piacere di incontrarsi e organizzare cose insieme. A Savona non esiste una comunità ebraica strutturata, ma si tenta lo stesso di mantenere dei legami e di sostenere momenti di conoscenza e approfondimento. Per esempio, sono ormai diversi anni che con la comunità ebraica organizziamo le accensioni delle candele di Anukkah. e anche quest'anno abbiamo fatto un momento savonese in cui appunto abbiamo acceso la seconda candela, era la nostra, è venuto il rabbino, abbiamo radunato qualche famiglia che ha dei legami con la comunità ebraica, che è venuta a fare questa cerimonia. È stato un momento familiare quasi, direi, proprio di condivisione. Direttamente su, dedicata al dialogo ebraico-cristiano, andrà in onda domani 12 gennaio alle 21 sul canale 12 di Telepace. Invece questa sera alle 21, sempre al canale 12 di Telepace, nella nostra trasmissione Missione Mondo, Don Maurizio Prandi intervisterà Piero Buffa, medico pediatra del Gaslini in pensione, missionario in Benin. Ci racconterà la sua storia, caratterizzata da un'intensa attività di volontariato, ma anche da diversi progetti per il sociale. 40 anni in corsia al Gaslini, con una parentesi di due anni come volontario del QAM in Kenya, in un ospedale dei missionari della Consolata. Un amore sconfinato per l'Africa, concretizzato nelle 24 missioni in Benin, al servizio degli ammalati, curati nell'ospedale del Fatebene Fratelli. Piero Buffa racconta, nella rubrica Missione Mondo, la sua storia, fatta di tanti volti, della sua professionalità, ma anche della capacità di incontro e di integrazione. Tanti argomenti che pongono al centro una sola riflessione. Una riflessione sulla ricchezza che ti dà la gratuità, in un mondo in cui tutto è denaro, tutto viene misurato in termini di dollari o di euro, perché adesso abbiamo anche l'euro. Bene, no, la bellezza di dare qualcosa gratuitamente. Non è solo nelle corsie dell'ospedale beninese, con 400 posti letto, che si compie la missione del dottor Buffa. Insieme alla moglie, alcuni anni fa, avvia un progetto di accoglienza per bambini orfani. Abbiamo cominciato con sei orfani, poi sono diventati otto, e adesso sono la bellezza di sedici. Tra questi ci sono sia orfani, ecco alcune immagini, che due, un bambino e una ragazzina, che sono figli di mamme carcerate, che altrimenti sarebbero stati condannati a vivere in casa. Il secondo grande progetto è quello di realizzare un centro di formazione professionale per ragazzi con disabilità fisica, gli esclusi dalla società. Abbiamo fatto per tre anni fare apprendistato presso degli artigiani, 50 ragazze e ragazzi disabili, e il progetto adesso, della seconda parte, per aver fatto prendere il diploma a tutti, è quello di costruire un centro artigianale multifunzionale, in cui sia gli artigiani che li hanno formati, sia i ragazzi stessi che hanno preso il diploma, potranno esercitarsi e avere un reddito e sostenere le proprie famiglie. Tanti sogni cullati, anche in questa fase della vita in cui è andato in pensione, Piero Buffa può dedicare più tempo all'Africa e seguirla anche a distanza. A 40 anni i volontariati in Africa mi hanno fatto riflettere che non sempre è possibile raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, compreso quello della pace, però non bisogna scoraggiarsi. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti e lo sport. A corto di benzina, questo è il titolo di avvenire, maggioranza divisa, niente taglio delle accise, solo una norma sul prezzo medio, Meloni in udienza dal Papa, al centro del colloquio cordiale, guerra, povertà, migranti e regali solidari. Qua vediamo anche la figlia della Premier, la piccola Ginevra. E poi Brasile, magistrati a caccia degli ispiratori della rivolta di domenica, manifestazione in difesa della democrazia in tutto il paese, accuse a Bannon. La guerra in Ucraina, i russi prossimi a prendere la città chiave di Soledad, dove ci sono le miniere di sale del Donbass. E ancora l'immigrazione, il sindaco di Ravenna, l'accoglienza è possibile, in porto ad Ancona, l'Ocean Viking, la nave dell'ONG. E poi ancora l'ex ministro Giovannini, priorità alla sostenibilità, per il clima che cambia, il messaggio del Papa, per la giornata dei malati, attorno ai malati, una società che cura. E ancora la firma in Vaticano di una carta per la etica sugli algoritmi e la carta delle religioni. Andiamo invece adesso alla prima pagina del secolo, benzina un decreto a metà, nuove regole antispicolazione, tetto e rincari di autostrada, ma non torna lo sconto sulle accise. E poi la politica ligure tra veleni e leader in corsa, toti, dem, terzo polo, alleati a Savona, lite a destra e a sinistra. E poi c'è la corsa per la segreteria del PD. PD, torniamo concreti, Bonaccini nel ponente, accanto a Burlando, già presidente della regione. 3.000 farmaci quasi introvabili, disagi diffusi in tutta la Liguria, ma non solo, perché l'allarme è per tutta l'Europa. E c'è un boom per le medicine prodotte in farmacia, sciroppi e pastiglie, un po' come ai vecchi tempi. E poi ancora un'inchiesta sulla morte di Paolo Calistano, ma soprattutto su quello che è seguito alla morte, è sparito un milione dai conti di Calistano, indagato un amico. E poi il cambio della guardia nella società che gestisce l'acquario di Genova, Rivellino è nuovo amministratore delegato di Costa e Dutman, digitale presenza fisica per far crescere il gruppo, università invece precedenza ai 24 progetti del PNRR, stop a tutti i bandi minori. Nelle pagine interne del secolo, carburante alla corsa dei prezzi, in Riviera il servito oltre i 2 euro, ci sono distributori che aprono solo il self-service, sulla 12 tra Genova e Sessi Levante, la stazione più cara. Terminiamo con Santa Margherita, al Comune il Parc delle Ferrovie dello Stato, sarà area di sosta dei bus, l'amministrazione Donadoni stipula una convenzione per l'utilizzo del sito, è uno degli obiettivi che il Sindaco si era dato sin dalla sua prima elezione, il primo cittadino a Roma per la definizione dell'accordo, la svolta consentirà di liberare la città dal passaggio dei mezzi turistici, e questa è l'area dove sorgerà il posteggio. Gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela, è un saluto a chi ci segue, è un aggiornamento di cronaca, perché i carabinieri di Chiavari hanno arrestato un uomo di 50 anni, trovato in possesso di diverse dosi di eroina. È accaduto ieri sera, gli agenti lo hanno perquisito e poi hanno controllato, anche se nel suo domicilio avesse sostanze stupefacenti. L'uomo è residente a Chiavari e rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, ora vediamo che cosa c'è in programma per oggi con la nostra consueta scheda. Dalle 16 alle 19 a Palazzo Rocca di Chiavari sarà aperta le visite alla Mostra Antartica 2020, immagini della spedizione esplorativa, alpinistica e scientifica in Antartide. L'esposizione resta allestita fino al 5 febbraio. I pericorsi di cultura di Chiavari il professor Daniele Lazzarinti in una lezione in storia del cinema su La storia come allegoria esistenziale nel cinema di Ingmar Bergman, alle 16.15 nella Sala Libellara di Via del Pino. Nel diciottesimo corso di cultura genovese la ricercatrice studiosa in storia locale Giulietta Vaglio racconta antiche tracce dei cavalieri di Malta nel Tigullio, inizio alle 16.30 all'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari. Primo appuntamento dei talk Questo è il calcio a Sesti Levante, l'ex calciatore Luca Toni e il giornalista sportivo Alessandro Alciato parlano ogni storia e aneddoti di passione per il calcio. Inizio all'R21 all'ex convento dell'Annunziata. Siamo allo sport, palla a nuoto, la Prorecco ha vinto 11 a 8 in casa della Waspanover e raggiunge l'Olimpia a Cossa al secondo posto del girone A di Champions League. I greci hanno perso contro il Barceloneta, ora capolista in solitaria. una partita molto combattuta che i biancocelesti sono riusciti a controllare e portare a casa. Non è mai facile giocare dopo la pausa natalizia, ha detto il giocatore della Prorecco Nicolas Presciutti al termine della gara, aggiungendo forse dovevamo alzare il ritmo, portare qualche controfuga in più ed essere più aggressivi in attacco, ma l'obiettivo era la vittoria e lo abbiamo centrato. La prossima partita di Champions League è il 24 gennaio quando la Prorecco giocherà contro il Barceloneta. L'Unione Sportiva Sestri Levante ha annunciato il tesseramento di Silvano Raggio Garibaldi, centrocampista, con diverse presenze tra Serie A, Serie B e Lega Pro. Nato nel 1989, è cresciuto nel Genoa, con cui nel 2007-2008 ha debuttato nella massima serie. La scorsa stagione giocava nel Seregno in Lega Pro. Vi ricordo l'appuntamento delle 21 con Missione Mondo, mentre il nostro telegiornale torna alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti. Grazie per aver guardato il video.